Con il direttore generale Gianfranco Pilato, direttore, siamo alla vigilia di una partita importante per l'Isola e un derby, è sempre una partita particolare. Allora per voi del Barano che dovete inseguire questa capolista fracolese, che partita sarà? No, no, non è una partita particolare, è una partita che per noi ha il suo valore come ce l'hanno avuto tutte quante le altre. Giochiamo contro una squadra di Ische, però non diamo troppo peso al fatto che siano due squadre isolane, anche perché siamo confortati dal fatto che le due famiglie proprietarie di queste due società sono famiglie amiche. Lo dimostra il fatto della partita di andata, abbiamo perso 3-1 in casa, nessuno si è arrabbiato, ci siamo salutati, abbracciati e tutto tranquillo. Quindi dovrà essere la stessa cosa anche domani. È ovvio che ci sono degli interessi diversi tra noi e la nuova Ischia. Noi ci troviamo in quella posizione, quindi dovremmo continuare nei risultati, dare seguito a questi risultati, se si vuole, se si vuole, dico se si vuole, sperare in un qualcosina. A proposito di questo, mentre la nuova Ischia sembra ormai aver ridimensionato gli obiettivi, il Barano ci può provare. È in una situazione difficile la nuova Ischia. Pensa che a questo punto voi siete i favoriti per questa partita? Diciamo che sulla carta dovrebbe essere così, però è ovvio che non mi fido. La nuova Ischia non è che ha smobilitato, ha fatto quello che è giusto fare nel mese di dicembre a livello dilettantistico, cioè non è concepibile buttare poi dei soldi per un nulla, per niente. Quindi a mio avviso ritengo che loro abbiano fatto la scelta giusta, scelta che avrei fatto anche io a Barano, perché non va bene buttare i soldi a mare. Com'è la situazione per quanto riguarda i giocatori? Direttore Esposito, stiamo vedendo, si sta allenando, però è ancora in forte dubbio, non ci sarà Capitano Ferrari, la situazione è infortunata. È sempre la solita, Ferrari squalificato, Arcamone, Soghiuzzo, Presto Pino, Esposito e Manzi lavoreranno a parte, quindi non so che cosa succederà e che cosa deciderà poi Peppe. E quindi saremo rabberciati anche noi, oltre che la nuova Ischia è in difficoltà, è a livello numerico, è a livello di squalificati, di infortunati. Si aspetta un rispoli tutto esaurito, almeno la cornice di pubblico dovrà essere una giornata di sport. Ecco, questa è la parola più bella che potevi dire, cioè io la intendo proprio come una festa di sport, sono due squadre isolane, ripeto, governate da due famiglie isolane, che fanno sport per divertimento e mi auguro che il vecchio rispoli sia un pochettino più pieno delle altre volte.